Comandante, una festa importante per ricordare quanto l'Arma comunque si è vicino sempre ai cittadini? Beh, in modo più iconografico possibile rispetto ad oggi, insomma l'abbiamo portata nel cuore di Teramo dopo tre anni di pandemia, era nostra intenzione essere vicino appieno alla popolazione, pare che il tempo ci stia dando pure ragione, quindi tutto si sta predisponendo favorevolmente. Il territorio Teramano come sta, Comandante? Il territorio Teramano, naturalmente parlo per gli aspetti sinergici di sicurezza che gestiamo unitamente alle altre forze di polizia, mi pare un territorio tutto sommato in salute, dove non abbiamo fenomeni di grande allarmismo sociale, è chiaro che la tregua non cessa di lotta contro i furti in abitazione, contro le truffe, contro quei reati predatori che violano l'intimità familiare in modo così fastidioso. Abbiamo fatto delle campagne comunicazionali importanti per le truffe, il fenomeno si è molto abbattuto, continuiamo a combattere per i reati predatori, in particolare per i furti che ineriscono soprattutto la fascia costiera, in qualche modo, sui quali però spesso conseguiamo anche risultati importanti. Si parla ultimamente purtroppo tanto di codice rosso, anche su questa emergenza voi siete sempre in prima linea. La nostra guardia è stata molto alta sul fenomeno, in sinergia con la procura, abbiamo aderito al protocollo diiche, abbiamo intercettato disagi prima che si addivenisse a fenomeni più violenti come purtroppo i fatti di Senago e Roma insegnano, anche se lì sono avvenuti in modo piuttosto estemporaneo. C'è una sinergia, c'è un'attenzione particolare, c'è un'autorità giudiziaria molto qualificata sul fenomeno, abbiamo ottenuto anche delle misure cautelari talvolta, per cui il livello è molto alto. Su questo esiste una rete molto importante, anche di associazioni locali, e voglio ringraziare soprattutto le due associazioni più importanti nel settore del territorio, Soropt, Mist e Fidapa, che ci aiutano a tenere alta la guardia e a intervenire laddove è necessario, in fase preventiva prima che repressiva.